Sicuramente penso sia il sesto o settimo consiglio regionale in cui non c'è una maggioranza. Io ritengo che sia una mancanza di rispetto sia per i cittadini ma sia anche per tutta l'aula. Quindi dopo la sesta o settima volta ritengo opportuno che si prendano coscienza che una maggioranza non c'è più e o si dimettono o il Presidente viene in aula a dire che non ha più una maggioranza e cedono aiuto all'opposizione. Non so l'assenza del Presidente se è sintomatica oppure aveva degli impegni. Il fatto sta che ormai sono due o tre mesi che andiamo avanti senza una maggioranza. È una legislatura che è finita quindi prima ci dimettiamo tutti, prima liberiamo la campagna.